salve a tutti benvenuti ad un altro video per mostrarvi il funzionamento di un prodotto che a breve potrete visionare nel dettaglio e acquistare se vorrete sul nostro negozio ebay piccola realtà per amatori di questo tipo di oggetti vintage con diciamo delle future idonee a preservare i vostri ricordi su vhs in quanto potrete sia visualizzarli in maniera anche più che discreta e copiarli anche su dvd in quanto questa macchina è dual recorder infatti come vedete la scritta record è in entrambi i lati parliamo di un'azienda enorme praticamente per i prodotti commerciali è stato il punto di riferimento dei 20 25 anni di commercio di questo tipo di tecnologia è il funai wd 5b macchina in condizioni intonse immacolate perfetta qualche segno dell'utilizzo ma ripeto macchina che sembra nuova poi non vendiamo macchine esauste o finite a livello meccanico perché sono cose che poi ritornano indietro non abbiamo nessun interesse a commercializzare prodotti che non funzionino per poi crearci un problema successivo questo funai e mi permetto datemi 30 secondi per farvi un piccolo racconto di che cosa è funai innanzitutto molti fanno l'errore comune di pensare che funai sia un marchio cinese assolutamente no è un'azienda giapponese un colosso internazionale nella fattispecie questi prodotti vengono venduti venivano scusate venduti dalla funai europea come tutte le cose giapponesi sono nate per durare fatte anche fabbricare in cina questo non lo metto in dubbio ma comunque la progettazione giapponese per la maggior parte delle macchine funai fornisce costruisce e costruiva meccaniche audio video per toshiba itachi philips piuttosto che alcuni oggetti pioneer alcuni videoregistratori sony hanno all'interno componenti funai perché a un certo punto questa tecnologia ha cominciato a diventare obsoleta e le grandi aziende che avevano dei costi di progettazione altissime hanno deciso di fornirsi da funai perché gli conveniva sicuramente piuttosto che mettersi a fare progettazione diretta e questo ha creato dei prodotti che ho venduto ieri un philips dvdr 3510 il cliente che l'ha acquistato è convinto di aver comprato un videoregistratore philips in realtà lui ha comprato un videoregistratore funai perché all'interno è tutto funai quindi non fate l'errore di pensare che questi siano prodotti di serie b perché semmai lo sono quelli per cui funai ha costruito le meccaniche non certo il loro la loro prima linea diretta bando alle ciance ma era giusto magari tante cose un onore sa e questi video servono anche a questo sei testini wifi stereo al comparto vhs dvd più meno r rv doppia il comparto dvd bellissime le future aggiuntive che trovate se rigrafate qui sopra innanzitutto questa è una macchina con digitale terrestre incorporato quindi ancora riceve i canali oddio ancora è una parola grossa in molte parti d'italia già stanno cambiando le frequenze quindi non credo che potrete scommettere sul fatto di riuscire a ricevere tutti i canali del digitale terrestre perché chiaramente questi sono decoder di prima generazione quindi io ve lo dico c'è ma non posso garantirvi che poi funzioni nella perfezione comunque poco male perché vi basterà eventualmente aggiornarlo comprando con 20 euro un decoderino digitale esterno da collegare dietro alla seconda scarte in quanto qui dietro abbiamo due prese scarte una per l'uscita una per l'ingresso decoder abbiamo l'uscita hdmi cosa fondamentale che ci consente di collegare l'oggetto ai televisori di ultima generazione che sono sprovvisti di ingresso scart abbiamo le mp3 ovviamente il dobi digital dts e tutto quello che ci serve per avere un audio perfetto anche per gli audiofili più esigenti tolgo il dvd che all'interno tra l'altro è un dvd che ho masterizzato vent'anni fa dvd comprato non mi ricordo non c'è neanche la marca vi faccio vedere come è ridotto questo disco guardatelo voi stessi io lo uso per prove cioè è distrutto perdonatemi lui non ha difficoltà a leggerlo perché queste macchine sono state costruite per passatemi il termine la classica casalinga le persone come me operai persone comuni che non possono avere conoscenze su questo tipo di supporti e una attenzione particolare facciamo una vita in cui le cose vengono utilizzate e quindi si possono rovinare sono stati creati per durare e con diciamo un'accezione che li rende indistruttibili e non hanno diciamo non soffrono dell'usura chiudo il cassetto ho messo un verbatim dvd più rv doppia glielo facciamo caricare la macchina vi arriverà con un telecomando compatibile in quanto quello originale io non lo trovo più quindi non c'era neanche nell'imballo che abbiamo rinvenuto perché ho preso uno stock di questi oggetti e non c'era il telecomando poco male questa macchina è semplicissima da utilizzare e il telecomando vi arriva comunque ma è un telecomando compatibile compatibile significa che non è e qui scusate non è un telecomando universale di quelli che tu compri al ferramenta poi ti danno un codice e alla fine è un compromesso no questa macchina ha un telecomando che vi mostro la leggenda è stato programmato proprio per questo oggetto abbasso la luminosità altrimenti non si legge e c'è una leggenda su un fogliettino che vi arriva allegato dove vi spiega ogni tasto del telecomando a quale delle funzioni originali corrisponde quindi non abbiamo il compromesso che questo telecomando ci fa mandare magari avanti indietro stop e play no ci fa entrare in tutte le funzioni specifiche e adesso ve lo mostro perché ci tengo non è la nostra una proposta di ripiego il telecomando originale aveva forse anche meno tasti di questo ve lo mostro subito intanto il dvd è stato caricato abbiamo 4 ore 57 ancora da scrivere ma saremo sicuramente in velocità più lenta con il tasto fin ovviamente dice sarà scritto rec speed se io vado vedere qui c'è scritto fin se io parlo sulla leggenda e cerco fin eccolo qua vedete che lui mi dice rec speed quindi è molto facile da individuare mi cambio la durata del dvd e lo metto in due ore che è poi quella che userò quasi sempre per copiare un nastro entro nel menu tramite il tasto setup eccolo qua quindi qui è abbastanza intuitivo setup e vedete che ho le impostazioni generali che posso diciamo fare senza problemi poi ripeto questi sono prodotti che sono nati per il pubblico finale quindi non abbiamo grossi problemi come vedete c'è anche il il menu del decoder dvb quindi da qui potremo poi andare a mettere la lingua l'audio eccetera intorno indietro e vi faccio vedere come si cancella un disco riscrivibile la voce è formatta se lo voglio cancellare finalizza se lo voglio rendere compatibile con le altre macchine che lo riprodurranno vado a fare la formattazione diamogli qualche secondo è molto veloce come vedete la barra va veloce in modo che abbiamo realmente la durata di due ore che avremmo con un disco vuoto io vi consiglio di utilizzare dischi usa e getta non i riscrivibili ma per un semplice motivo non si possono più cancellare una volta scritti magari un disco riscrivibile con un ricordo importante di cui non avete più magari la cassetta perché l'avete gettata via vi crea un danno che poi non potrete riparare ecco fatto formattato cento per cento come vedete davanti la macchina sta lavorando due ore esattamente come previsto prendiamo una cassetta e vado a prendere una cassetta vecchia un nastro diciamo di frutture qui che dice vabbè qui dice 1970 ore la cassetta sarà sicuramente più recente minimo c'ha 30 anni insomma mi sposto su vcr e il nastro parte siamo alla fine del film quindi lo voglio mandare un po indietro in modo da fare una copia e nel frattempo vi faccio anche vedere bellissimo display ai fosfori verdi molto vintage vedete la finitura del pannello frontale è molto bastano 10 minuti è molto elegante total black tutto nero senza graffi senza scalfiture senza spaccature ma a questo inserto specchiato davanti veramente elegante che riflette la luce riflette l'immagine se in una stanza avete un oggetto rosso diventa tutto rosso è molto diciamo idoneo ad essere contestualizzato in qualsiasi tipo di arredamento macchina esteticamente veramente bella elegante in stile funai perché funai comunque esteticamente ha sempre avuto questa diciamo futuribilità dei suoi oggetti essendo comunque prodotti tecnologici vado a premere play ecco io voglio cominciare la copia in questo punto cosa devo fare nulla di più facile c'è un solo tasto più evidente degli altri che è questo in violetto lo premo come vedete la macchina in automatico mi va a fare la copia vedete mi ha scritto db e si è acceso il tasto rec ora io non devo fare altro che attendere che la copia termini e lo posso fare in due modi facendo finire la videocassetta perché magari voglio copiare la comunione del bambino piuttosto che il mio viaggio di nozze la cerimonia di turno mi posso andare a fare le mie cose non devo stare qua due ore a vedere una cosa che magari sono a memoria mi metto più o meno un timer mentale dico fra un'ora e mezza ritorno e controllo cosa è successo se la cassetta in ordine non è rovinata non ci sono buchi non è tarlata la macchina non si fermerà mai finché non nastro non finisce quindi o la registrazione termina perché al momento in cui la cassetta termina la registrazione ma ci sono magari ancora 30 minuti di vuoto lui ferma perché non rileva più sergente su agenti video e blocca la masterizzazione del dvd gli do un paio di minuti intanto vi invito a guardare voi stessi questo cappotto che è nero e credetemi che la peggiore cosa che un vhs deve fare è trasformare diciamo i segnali in nero perché non hanno profondità i segnali vhs e qui lo vedo abbastanza netto certo un grigio scuro ci possiamo dimenticare il nero del blu ray ma non è per questo che si acquista però guardate il pantalone della signora come quasi totalmente nero film è divertentissimo poi in lingua originale ancora di più ecco qua addio vado a premere stop do il tempo alla macchina che interagisce con l'utente dando sempre informazioni su quello che fa vedete write into disk sto scrivendo la traccia su disco la acquisita ora la diciamo la sistema in modo da poterne fruire quindi abbiamo fatto cento per cento mi posso riprendere la cassetta non mi serve più sentite come silenziosa la meccanica a testimonianza che si parla di prodotti premium avevo due ore ora è rimasta un'ora e 58 il telecomando mi viene subito un aiuto se io vado a premere menu qui avrò la anteprima della registrazione che ho fatto quindi andando poi in automatico lui mi parte con la riproduzione ecco qui questa è la mia copia in questo momento c'è anche l'audio ovviamente questo momento io ho digitalizzato rendendo eterno un nastro che aveva trent'anni da questo momento io posso fare altre cose oltre a questa posso trasferire questo dvd tramite un pc su una pennetta usb su un hard disk copiando la cartella interna del dvd che si chiama video ts poi la potete rinominare come volete magari fati patrimonio comunione battesimo lauree eccetera delle varie vostre acquisizioni e abbiamo digitalizzato una cosa che da un momento all'altro avremmo inserito nel videoregistratore magari naso che sarebbe accartocciato perché ormai deperito e non l'avremmo più potuto vedere perché attenzione la cassetta si io le vedo ancora ma per quanto e se si rovinano come faccio a ripararle non è che possiamo smontare una videocassetta e metterci mano perché se facciamo questo poi romperemo il videoregistratore quando l'andra a riprodurre perché le testine video sono molto delicate quindi vi ripeto funai wd 5b prodotto top premium condizioni pari al nuovo dual recorder 6 testine dual standard dvd con telecomando compatibile ma con la sua leggenda di funzioni allegata che vi arriverà insieme alla macchina non avrete bisogno del libretto di istruzioni io non lo metto non serve se vi servirà vi mando un link dove scaricarlo ma è carta buttata perché io vi ho fatto vedere che non ne avete bisogno il prodotto è funzionante in tutte le sue parti è stato completamente revisionato ed è stata fatta ovviamente una manutenzione straordinaria che gli consentirà di durare nel tempo per qualsiasi domanda potete scrivere al link che trovate in descrizione alla inserzione ebay con cui potete vedere tutti i dettagli il prezzo eccetera inoltre vi invito a vedere le foto in alta risoluzione perché potrete vedere una foto del prodotto senza il coperchio superiore quindi una vista da questo punto per controllare voi stessi le meccaniche interne rendervi conto della reale condizione di conservazione grazie a tutti per avermi seguito e buon acquisto su ebay